Parco di via Acuto, Alessandro Caneschi e Giovanni Donati, perché siete qui per annunciare dei lavori che sono finiti, però il parco non è ancora aperto? Sì, sembra che i lavori siano finiti, poi non si capisce perché ci sono anche gli operai, anche ieri c'erano degli operai a lavorare. Il fatto è che noi abbiamo fatto anche l'ultimo consiglio comunale, un'interrogazione, e l'assessore Casici aveva annunciato che entro la primavera sarebbe stato riaperto. Il fatto è che invece si è ancora chiuso e avevamo anche sollecitato il fatto che se c'era qualche problema nella gestione dei fabbricati, che vedete con le nostre spalle, comunque andava riaperto il parco, perché sono quattro anni che i cittadini non possono utilizzare questo parco pubblico. Oltretutto più tempo si aspetta e più cresce l'erba e quindi va rifatta la manutenzione? Certo, questa è a carico di chi dovrà gestire tutto l'ambiente, però il fatto è che i cittadini di questa zona non possono usufruire del parco ormai da quattro anni. Questo è nel periodo estivo l'unico punto dove possono stare in tranquillità bambini e persone anziane. Oltretutto è proprio un bello spazio enorme, ci sono gli alberi, ci sono tanti giochi per i bambini, è un peccato? Sì, è un peccato perché alla fine questo parco è un'opera anche che è utile alla cittadinanza, ci sono attrezzature sportive, ci sono strutture ricreative, però il fatto è che alle promesse di apertura che devono essere prima novembre l'anno scorso, poi a primavera di quest'anno non sono seguite i fatti e i cittadini di questa zona, i bambini, gli anziani non possono usufruirlo e questo secondo noi è una cosa vergognosa.